Vi auguro la buona giornata con questo messaggio. Rubino, aiuta il tuo cuore, cerca sostegno emotivo e spirituale per guarire il tuo cuore. Hai ricevuto questa carta perché il tuo cuore ha bisogno di cure amorevoli a causa di una perdita o della fine di una relazione. Stai soffrendo e avresti bisogno di un abbraccio rassicurante che i tuoi angeli custodi ti stanno offrendo in questo momento. La carta potrebbe anche suggerire di cercare sostegno emotivo dopo un grande dolore. In alcuni casi invece si tratta proprio di prestare attenzioni e cure al cuore in quanto organo fisico, per esempio con una dieta sana, attività fisica o visite specialistiche. La carta può anche suggerirti di connettersi con il cuore sacro di Gesù per una guarigione e purificazione spirituale. Dio benedice il tuo cuore e ti guida a seguire il cammino che è vero e giusto per te. Il rubino gemma di colore rosso, secondo solo a diamante per durezza, il che significa un cuore forte e sano. I rubini calmano e guariscono a livello fisico, energetico ed emotivo. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.